Si chiama Eluce Malle Stelle, titolo ripreso dalla celebre opera di Puccini e dalla grande rassegna musicale pensata dal comune di Fano per dare luce ad un periodo buio e dare spazio alle tante realtà locali che hanno dovuto annullare gli eventi a causa della pandemia. Per dieci serate gli artisti avranno così la possibilità di tornare ad esibirsi di fronte al pubblico nel palcoscenico naturale del lungomare di Sassonia, il tutto nel rispetto delle norme anti-Covid. Innanzitutto devo dire che il progetto Fan & Plein Air sta funzionando molto bene, quindi questa idea di città che vive a cielo aperto con tutti i contenitori culturali che hanno preso forma e sostanza con gli eventi sta funzionando molto bene. Un ulteriore step lo abbiamo fatto con i mercoledì degli artisti in collaborazione con i locali e gli artisti della città, ora un ulteriore step lo facciamo nella zona mare con un progetto che si chiama Eluce Malle Stelle dove l'anfiteatro Arrastat si trasformerà in una bellissima area a spettacoli. Ci saranno una decina di spettacoli che saranno veramente molto interessanti e daranno valore ai nostri contesti culturali e alle associazioni della città. Si partirà il 13 agosto con Qui dove il mare lucica con la band Piazza Grande e Iskra Menarini che si esibiranno in un tributo a Lucio Dalla. Venerdì 14 evento speciale dell'orchestra Sinfonica Rossini che porterà in scena un omaggio a Morricone con la partecipazione straordinaria del direttore artistico Daniele Agiman. Sabato 15 invece il re del pop sbarcherà a Sassonia grazie alla tribute band Jackson One che farà rivivere l'indimenticato Michael Jackson. Frontman Roy Paladini ha detta della critica la voce italiana più simile all'originale. Il 16 e il 17 poi si farà un tuffo nel passato con le serate medievali a cura del gruppo storico La Pandolfaccia. Il 19 sarà il turno del coro una scuola tra le note che si esibirà per la prima volta dopo il lockdown mentre per venerdì 20 in programma un viaggio tra la musica con i The Best Of che porteranno in scena i più grandi successi dagli anni 50 ad oggi. Questo è il programma attuale, le serate non sono finite potranno prendere forma anche altre attività in collaborazione con le tante associazioni e quindi uno spazio da poter far vivere ai turisti che in agosto finalmente arrivano nella città di Fano e quindi un momento anche d'accoglienza per loro e la possibilità di esibirsi a tutte le associazioni della città di Fano. L'iniziativa è stata realizzata in collaborazione con la Proloco di Fano, la Fondazione Teatro della Fortuna, l'Orchestra Sinfonica Rossini e con il supporto degli istituti bancari Creval e BCC. Ogni sera saranno 330 le persone che potranno assistere agli spettacoli ad un costo simbolico che si aggira tra i 2 e i 3 euro ad eccetto della serata dedicata al maestro Morricone che costerà 10 euro. Per tutti gli show è possibile acquistare un biglietto su live ticket.it ma sul posto sarà comunque presente una biglietteria che li venderà fino ad esaurimento dei posti disponibili. Dobbiamo strutturare tutto il Rastat, ovviamente come sapete il Rastat è una zona libera, aperta quindi non è possibile in questo momento, in questo periodo poter organizzare qualcosa. Quindi noi della Proloco strutturiamo, metteremo sedie, organizziamo tutto ciò che riguarda l'ingresso e il distanziamento sociale per poter permettere a tutte le persone che vorranno partecipare a questi bellissimi eventi di poter partecipare in totale sicurezza e comunque divertirsi.